Benvenuti nel biscottificio Grondona, il biscottificio della mia famiglia da più di 200 anni, che oggi ha il piacere di aprire le porte ai volontari Teleton. E' qui che nascono i nostri cuori di biscotto. Vi permetto di dire nostri, perché ormai sono anni che è un piacere collaborare con Teleton. Oggi abbiamo visitato la fabbrica di Grondona e siamo molto felici di questa esperienza, in cui abbiamo potuto vedere con i nostri occhi il grande lavoro che c'è dietro la produzione di questi biscotti che vengono consegnati a Fondazione Teleton, le nostre attività di volontariato sul territorio. Questa visita mi ha lasciato una grande passione per il lavoro che gli amici di Grondona fanno per dare un prodotto di cuore, rivolto al cuore dei donatori e anche al cuore dei volontari. L'ingrediente segreto dei volontari Teleton è quello di dare trasparenza al lavoro che fanno ogni giorno, dimostrare che quei soldi raccolti servono per aiutare i bambini colpiti da malattie genetiche. Come la maggioranza di noi coordinatori ritengo che gli ingredienti siano la trasparenza che mettiamo ogni giorno nell'attività che facciamo per raccontare quelle che sono le attività di Teleton, la fiducia che cerchiamo di trasmettere a tutti coloro che agiscono con noi sul territorio. La fiducia è un termine che prende tutte le componenti di un coordinamento e comunque del sistema di volontariato, perché è la fiducia che i donatori mettono nel donare, quella dei nostri volontari che credono fortemente in Teleton e la fiducia anche delle persone affette da una malattia rara che loro pongono in fondazione Teleton. Quindi l'ingrediente perfetto per questo connubio, secondo me, sono le persone. Grazie all'impegno dei volontari questi biscotti diventano ancora più buoni, perché si trasformano in futuro per tutti i bambini affatti da malattie genetiche rare.